benvenuti a freddugia per la steppa ho dimenticato le mie compagnie di viaggio le mie caramelle don perugina buongiorno signor freddowski dove va di bello? salto sul primo aereo e volo verso il mare buongiorno signor freddowski a bagagli? solo qualcuno me li dia ne altri? no solo un piccolo bauletto così grande? ma cosa c'è dentro? sa deve insegnarmi a nuotare la compagnia alifredde annuncia il volo 054 per la riviera uscita 3 seguitemi prego mi scusi saprebbe indicarmi l'aereo per la riviera? certo eccolo la il terzo da sinistra partendo da destra per la steppa e chi lo trova? signor freddowski signor freddowski per la steppa l'ho ritrovata che caldoschi che faschi per la steppa ma non c'è niente di fresco siiii si caramelle frizzanti Don Perugina rinfrescano come una bibita e ora per 10 lire troverete le frizzanti Don Perugina anche in confezione da una caramella frizzanti Don Perugina in bocca frizzano frizzano sempre frizzanti Don Perugina all'arancia, al limone e al nuovo gusto gin tonic il successo dell'estate Don Perugina